Partita anche questa partita finale, 25 giri da percorso, campana a meno 23, 3 punti a meno 22. Primo passaggio di meno 24 a 8, sul prossimo giro sentiremo suonare la prima campana. Campana a meno 23. 105-104 Campana di meno 21 Mentre è un gruppetto di tracchi di casa Che ha preso 4 metri di tantasso 105-109 Il gruppo di passaggio vengono ripresi dal gruppo I tre fuggitivi che avevano tentato per qualche giro una breve fuga E la vetta della Vecca A questo punto ha tentato di allungare sul gruppo Per andare a capire i punti sul prossimo passaggio Siamo al passaggio di 18 2-2-2-2-2 Gruppo ancora abbastanza compatto in questo momento Gruppo ancora abbastanza compatto Parte per via solo la lega delle lampi Quando suona la campana di meno 17 E sono ancora gli atleti Mullai e talienta in questo momento A toccarci D'accordo 2-2-2-2-2 Dai Leo Verso 中 Il gruppo Prendono un buon magine di vantaggio 2-3 5-7 2-2 2-3 proseguono nella lavorazione due atleti di testa con Corazzo e Ugoldo campana di meno 13 e una camicia sulla bravo Siria ha finito l'atleta Ugoldo e si ferma poco dopo l'arrivo vai Leo 107-292 un ultimo passaggio 107-292 un ultimo passaggio 107-283 tipichiamo il tiro precedente 107-233 campana di meno 10 campana di meno 11 passaggio punti di meno 10 passaggio punti di meno 10 al prossimo passaggio 225-104 punti di meno 10 dai Leo Leo dentro subito Leo 113-133-39 113-39 113-39 è un gruppo di 6 atleti di meno 10 che è stato un gruppo di 6 atleti di meno 11 e si staccae un 3 in basso Siamo al passaggio di meno 6 2-6-2-2-9-2 Campana di meno 5 al passaggio ed è l'atleta 260 in questo momento ha dato un po' di stacco a due, un petto di fuga 260-292 campane in meno 3 saranno tutti sul prossimo passaggio in meno 2 260-292 salvana nell'ultimo giro 3-2-1 arrivo attenzione atleti ultimo giro eccoci eccoci si rialza l'atleta dalla redbrec che si trovava insieme